perché abbiamo ospite Carlo Verdone. Grazie, saluto a tutti voi. Non penso che ci sia neanche... Cioè, sarebbe super problema di Carlo Verdone, che oggi però è in veste di scrittore. Ci tengo a dirlo perché questo libro, La carezza della memoria, è un libro veramente prezioso. Io l'ho definito veramente un libro particolarmente spontaneo, perché è come se annullasse il filtro tra parola scritta e lettore. Nel momento in cui leggi sei completamente coinvolto. E volevo partire proprio da qua, nel senso che La carezza della memoria, ancora più della casa sotto i portici... Sopra i portici. Sopra i portici, scusa. Si sente... Tutti dicono che quando un regista passa in fase di scrittura autore di un libro ha una scrittura molto cinematografica, molto visuale, invece no. Tu hai una scrittura letteraria. Secondo me il tuo è un libro con un peso letterario. Tu quindi imposti la tua scrittura dal punto di vista letterario, non cinematografico quindi per immagini, vero? Guarda, io credo che la scrittura sia... Fare lo scrittore sia un esercizio continuo ed estenuante. E in questo devo dire che mi sono... È un esercizio continuo. Io mi sono... Dopo la casa sopra i portici ho cominciato a scrivere delle piccole cose esercitandomi. Per esempio, quante volte mi sono trovato in un vagone vuoto e mi sono detto, ma se io dovessi descrivere adesso questo vagone, il mio stato d'animo, come farei, come inizierei? Ho cominciato così, a scrivere piano piano dei piccoli racconti di una pagina e mezza, di due pagine. Poi a un certo punto miracolosamente arrivavo anche a quattro pagine. Ma erano esercizi privati per me. Quindi è anche molto importante leggere gli altri. Ecco, bisogna andare su altri scrittori, bisogna avere delle suggestioni da altri libri importanti, cercare di capire un po' la forma della scrittura. Per esempio, a me è stato molto utile rileggermi alcuni racconti di Chekhov, che non c'entrano nulla con il mio libro. Però leggere Chekhov è un allenamento importante. Leggere Mopassant è un allenamento molto, molto importante. Poi ti serviranno, non serviranno. Però entri in un percorso narrativo molto robusto, molto seduttivo in qualche maniera. Cominci a vedere, per esempio Chekhov usa dei tempi molto stretti, non si dilunga molto. Ecco, mi piaceva proprio il modo come lui scrive, poche parole, però ti ha raccontato tutto con quelle poche parole. Quindi leggere gli altri, esercitarsi magari anche a scrivere delle cose. Per esempio, mi sono molto esercitato anche a scrivere delle prefazioni per persone che me l'hanno chiesto e chiaramente mi piacevano i libri che avevano scritto. Anche per esempio scrivere delle belle prefazioni, non banali, scritte. Anche quello è importante, è importante. E ci devi perdere tempo, devi cercare la parola giusta, l'aggettivo giusto, l'attributo giusto. Poi, sai, questo libro nasce da fatti veri. Quella scatola che si è rotta, che ha fatto vedere tutti gli oggetti cadendo, fotografie polaroide, fotografie lucide, fotografie opache, Ilford, Kodak, sbiadite, nitide, addirittura fotografie risalenti alla prima guerra mondiale. In qualche modo ogni oggetto, ogni fotografia era, non dico tutti, ma molti erano un racconto che meritava di essere sviluppato. E piano piano credo di aver migliorato la mia scrittura. Però, attenzione, quando si scrive non si deve cercare di fare bella figura verso il lettore per dire, ah, guarda che bello attributo ho trovato, guarda che bello aggettivo che ho trovato, guarda che bel verbo. No, deve nascere tutto in maniera spontanea. Non ti devi mettere a fare il geometra della bella, del periodo, quanto deve essere lungo o quante volte, devi essere spontaneo, però intanto devi avere immagazzinato quello che grandi autori, grandi scrittori ti hanno suggerito attraverso la loro lettura. Io questo libro l'ho scritto con molto slancio, con molto coraggio, perché alcuni capitoli, insomma, sono anche coraggiosi, però con grande ispirazione. Ero solo durante il lockdown in questa casa, la mia casa di campagna, non potevo camminare all'epoca perché ero ridotto molto male con le anche, quindi ero in attesa di farmi l'operazione, non potevo fare altro, dovevo stare seduto. E quindi ho detto perché buttare dalla finestra un anno col Covid senza far nulla, scriviamo. Ma fortunatamente è arrivata la caduta della scatola di cartone, che era sigillata dal 2013 e mi ha offerto la possibilità di analizzare quegli elementi e di poterli raccontare. Io credo che questo libro sia perfettamente quello che sono io, molto più di un film. Chi è Carlo Verdone? Carlo Verdone è questo libro, La carezza della memoria. Sono stato di sicurezza assoluta. Questa spontaneità, te l'ho detto, esce subito, balza fuori dalla pagina immediata, perché il libro a parte che si fa leggere subito. Io avevo cominciato a leggerlo pensando di doverlo centelinare in uno o due giorni, invece in una notte l'ho subito letto. Ricordiamo, è dito da Bonpiani, La carezza della memoria, adesso in libreria. E si ritrova, alcune volte si stenta anche a credere che quelle che tu racconti siano storie vere, come per esempio il Sibarietto sul treno con Mario Sanzi. È tutto vero. È una cosa fantastica. Mi sarei permesso di raccontare delle storie non vere. Il Carlo Verdone che era a cattura la realtà e la porti in maniera resistibile. Il Sibarietto sul treno è qualcosa di fantastico. Avevo anche un testimone là, che era il critico Mario Sanzi, che può confermare tutto. O scrivi delle cose vere, se non hai lo slancio di essere così sincero. E il lettore se ne accorge se la cosa è vera o non è vero. Assolutamente. Guarda, c'è una frase bellissima che viene riportata anche sul retro e che è verso la fine, quasi sul finale, che dice io vivo di ricordi perché i ricordi sono l'unica prova che ho vissuto e che non sono solo esistito. Ed è una frase che veramente ti colpisce al cuore. Poi si ricollega anche al tuo cinema, quella scena finale che viene citata anche di al lupo al lupo, dove c'è il padre che ritrae i propri figli vedendoli bambini. Quindi si sente proprio il tuo legame fortissimo con il passato, ma questo legame col passato, con la malinconia, una dolce malinconia, ti porta a vivere più serenamente il presente o a rimpiangere, a cercare di rincorrere un po' il passato? No, non si può rincorrere il passato. Il passato appartiene a un qualcosa che purtroppo è andato via, non c'è niente da fare. Però la scrittura, come anche il cinema in qualche modo, però la scrittura in maniera più libera riesce in qualche modo ad illuderti di poter ridar vita a delle immagini trascorse, a delle atmosfere che sono ormai nell'oblio. Quando scrivi un libro, sei più libero rispetto a quando giri un film. Uno può dire che l'anima di Carlo Verdone è sicuramente tra un sacco bello, Bianco Rosso del Verdone, Barotalco, compagni di scuola. Sì, però ricordo di questo, che un film è sempre un compromesso tra te e il produttore. Quindi c'è verità, per carità, quei personaggi mi appartengono. Però un film è sempre un compromesso, quindi non è mai del tutto libero. Il libro è invece libertà assoluta. Non c'è nessuno dietro le spalle che mi dice, no, questa cosa toglila perché fa poco ridere. No, cerca di finire in maniera ottimistica in modo che il pubblico poi magari è più con te. Capito? Non c'è quell'interferenza con la penna rossa o blu e questo non è troppo dolente, per carità. No, io ero libero qua. Io qua ho raccontato anche l'incontro tra me e una signora in fase terminale, che è molto toccante, molto toccante, molto bello. E l'ho descritto esattamente come è avvenuto quell'incontro. È stato un bellissimo incontro che mi ha arricchito, avevo tanta paura prima di andare a trovarla. Però questo suo desiderio di conoscermi e di ringraziarmi addirittura, perché ne ho fatto compagnia con i miei film durante la terapia del dolore, mi ha molto colpito. E allora quando sono uscito mi sono detto, vedi, insomma anche un attore comico, brillante, insomma può anche essere qualcosa di estremamente forte, può dare veramente un aiuto più di una medicina a una persona che si trova nella condizione di dover lasciare la vita. E quindi ho capito quanto è importante fare questo mio lavoro e farlo bene. E quindi è stato qualcosa di veramente straordinario, che ho voluto raccontarlo nel libro, con la poesia con il quale è avvenuto questo incontro e anche le riflessioni che mi ha portato a fare questo incontro. Mi sono aperto al pubblico con totale sincerità. Ecco, a proposito del pubblico, una cosa che emerge da questo libro, dal tuo racconto, ma che si sa, è il fatto che tu non smetti mai di spenderti per il tuo pubblico. Tu non sei il personaggio, cioè adesso sei una colonna portante del cinema, Carlo Verdone ormai è un nome. Però tu non ti sottrai mai al contatto con il pubblico, non ti sottrai mai all'autografo, alla fotografia, al selfie. Leggevo anche sul treno, ti accorgi che qualcuno ti fa una fotografia di nascosto. Tu non smetti mai di sottrarti e di volere bene al tuo pubblico. È faticoso questo continuo a rapportarti. Questo tuo puoi non avere alla fine una vita privata, perché tu cammini per strada, non puoi. Leggevo anche del viaggio che hai fatto con tua figlia per Iris Blonde. Questo tuo mancanza di un profilo profondamente privato, penso che sia faticoso, però poi ti ripaga forse con l'amore del pubblico. Ma guarda, a un certo punto io sono entrato nell'ordine delle idee che fare l'attore è un lavoro, in qualche modo. È un lavoro che tu scegli. Quando io esco dalla casa, dalla signora in fase terminale e mi dice quelle belle parole, tu capisci quanto è importante far bene questo lavoro e quanto può essere importante per gli altri, di aiuto, di sussidio. Sei come una sorta di antidepressivo, privo di effetti collaterali e quindi alla fine ti dai. Hai capito che è una missione questa, diventa una missione. Se lo fai bene e non lo fai per soldi, lo fai con slancio, lo fai per amore del tuo pubblico, è importante, è molto importante. Io non mi sono mai tirato indietro. Ho fatto sempre. Mi senti? Perché poi alla fine io tutta la mia vita l'ho consacrata al pubblico. Spesso sto sottraendola agli amici, inizialmente anche ai figli, da te che poi ho dovuto recuperare. Però l'attore sposa il suo pubblico in qualche modo, un attore serio. È così. Anche perché si unisce anche al fatto che tu sei continuamente, studi continuamente, anche prima hai detto che per scrivere tu pensi che sia necessario leggere tanto ed è fondamentale. Eh beh, se vuoi scrivere devi leggere tanto, se vuoi fare il regista devi vedere tanti film degli altri, è la stessa cosa. Se vuoi fare il calciatore devi farti una cultura sui più grandi calciatori, i più grandi fantasisti, i più grandi centravanti, i più grandi, li devi vedere. Cioè ti devi fare una cultura se vuoi avvicinarti a quella disciplina. Sì, è certo. A proposito di cinema, di studio, tu esci dal centro sperimentale, lo sanno tutti, e mi è piaciuto particolarmente il racconto che hai fatto del tuo approccio, della tua prima volta su No Stop, perché tu aspettavi di essere chiamato in Rai. Quindi poi hai avuto quest'occasione irripetibile per partecipare a No Stop. E in questo frangente, a parte che è bellissimo rivivere con te, ci fai rivivere le emozioni di un debuttante, perché non sai se eri all'altezza, non ti rendevi conto se erano tanti quei mesi dovuti passare in televisione a creare sketch. Ma emerge anche, a me è sembrato che emergesse anche sempre di più, come in passato, come anche nel tuo cinema, la figura di tuo padre. Perché nonostante sia tua madre quella che ti sprona, che ti coccola, che dice no, fai perché è un'occasione, tuo padre in un certo senso non ti osteggiava, però ti instillava il dubbio, ti faceva riflettere. Però è lui quello che ti ha fatto crescere artisticamente, nonostante fosse… Ma allora la sensibilità uno ce l'ha, ci nasce, poi viene alimentata chiaramente dall'ambiente familiare, dagli amici più frequenti, però quando tu hai una famiglia che è sempre volta allo stupore delle cose, è sempre volta alla curiosità. Mio padre era senese, però amava profondamente Roma, amava profondamente il quartiere dove abitava. Mia madre era una donna molto ironica, mi hanno sempre stimolato ad andare a vedere, ad andare a incontrare quel rigattiere perché era un personaggio e faceva ridere. Io ero un imitatore della gente comune, mi piaceva stare con il calzolaio, ascoltare i racconti, sono sempre uno che ha amato la gente. Quindi è stato molto importante anche l'insegnamento che tu hai in casa, quello di vai verso la cultura, però vai anche verso l'umanità. Cerca anche di capire gli altri, cerca di capire il mondo, la vita, ma hanno aiutato ad amare la gente, a capirne le fragilità, le debolezze, i difetti, le ironie, le megalomanie, le mitomanie. Alla fine tutto il mio lavoro, soprattutto la prima parte del mio lavoro, è concentrata su tanti ricordi, su tante cose che ho visto. Mio padre è stato un grande educatore, oltre che un uomo molto spiritoso, molto serio per chiarità, però il fatto di portarci insieme con lui nei viaggi, io ho fatto tanti viaggi con mio padre. In quei viaggi ho conosciuto tanta gente importante, ho conosciuto tante culture diverse. Mio padre ci teneva molto, io leggessi, che studiassi, che mi avvicinassi anche a comprendere la pittura, le avanguardie, oltre che il cinema. Era un uomo che dispensava consigli continuamente e alla fine il suo lavoro l'ha fatto bene. La stessa cosa che ho fatto un po' con i miei figli a un certo punto, ho cercato di fargli crescere delle passioni in loro. Questa cosa è stata molto importante, perché sono due ragazzi fantastici, lavorano, sono pieni di etica, che è la cosa che più mi piace, più vado orgoglioso e sono molto seri nel lavoro. Però hanno tante passioni, la musica, la pittura, l'architettura, il viaggiare, ecco il viaggiare è molto molto importante. Se non viaggi non vivi, non capisci la vita, non basta viaggiare tra Roma e Firenze e Venezia, no, non è quello. Tu devi vedere altre culture, devi un po' capire com'è il mondo, com'è fatto il mondo, perché il mondo è bellissimo nelle sue varietà, nelle sue tradizioni diverse, nelle sue culture diverse. Quindi il viaggio che ho iniziato con mio padre, quando mi portava con lui, mi ha portato dall'Iran ai paesi comunisti all'epoca, mi ha fatto vedere tutto, siamo stati in Medio Oriente, siamo stati in Russia, siamo stati in tutte le repubbliche socialiste sovietiche, siamo stati in Francia, in Inghilterra, ma ogni viaggio era sempre una visita a un grande autore che lui conosceva, a un grande scrittore, a un grande regista, a un museo. Alla fine, dai, il suo lavoro l'ha fatto. Ma io penso che i figli siano profondamente lo specchio dei genitori, perché se il genitore ti dà quelle suggestioni, quelle spinte, poi il figlio è liberissimo di intraprenderlo o meno, ma è fondamentale dare una suggestione, dare una spinta, far capire al figlio che esiste questo mondo di bellezza, di arte, di cultura. No, voglio dire qualcosa, sì, però è anche vero che, anche se non è una famiglia robusta alle spalle, che ti sollecita in tutte queste cose, il viaggiare, il leggere, cioè non devi per forza avere una famiglia colta alle spalle. L'importante è che tu abbia la consapevolezza che frequentare delle persone di alto livello, sensibili, eccetera, che ti possa portare poi ad elevarti. Mio padre, volevo arrivare a dire questo, mio padre in fin dei conti è nato da una donna povera. Il papà è morto subito, è morto per un colpo di mortaio nella prima guerra mondiale sul Monte San Gabriele. La madre era una ricamatrice di un convento di suore. Lo zio era uno che attaccava i treni alla stazione ferroviaria di Siena. L'altra era una perpetua di un vescovo. Più povero dei così è che c'era cultura in quella casa, non c'era cultura. Ma mio padre, che si è messo in testa di voler studiare, soprattutto ha frequentato persone importanti in Toscana, era amico intimo di Cesare Brandi, che era stato il più grande critico di storia dell'arte, era amico di pittori astrattisti, toscani importanti, era amico anche di Franco Zeffirelli, di tutta quella gente. Alla fine si è elevato e essendo poi diventato anche assistente di Norberto Bobbio, alla fine ha avuto un educatore forse di Norberto Bobbio che ha fatto le veci del padre che era morto. Quindi Bobbio per mio padre è stato veramente come un secondo padre, però che padre? Era un grande intellettuale. Però la voglia di emergere, anche se la tua famiglia non c'è, anche se la tua famiglia non ti può dare niente, perché là veramente è una famiglia veramente povera. Sì, io ricordo a tutti che stiamo parlando di questo libro straordinario, La carezza della memoria, edito da Bonpiani adesso in tutte le librerie. Prima di salutarci, a parte che continuo a ringraziarti per questa occasione, perché un incontro con te, una chiacchierata con te è sempre un'occasione di arricchimento, non soltanto culturale ma anche secondo me spirituale, perché sei una persona veramente, no nel senso lato, sei una persona veramente ricca, come dovrebbe essere un artista. C'è soltanto una domanda, cioè il pubblico ci sta chiedendo, visto che siamo in diretta, una cosa molto interessante, quale pensi che sia una differenza del tuo pubblico dal tuo esordio ad oggi? Cioè com'è cambiato il tuo pubblico? Come pensi che sia cambiato il tuo pubblico? Come lo percepisci? Ma il pubblico che mi seguiva chiaramente in un sacco bello, in Bianco, Rosso e Verdone, è un pubblico che grossomodo, il grosso alla mia età, diciamoci la verità. Però fortunatamente quei film erano talmente innovativi, sono film talmente veri, perché poi alla fine c'è tanta anima in quei film, c'è tanta anima, che hanno conquistato anche delle generazioni più giovani. Ecco la spiegazione della mia longevità, perché se io fossi andato avanti soltanto col pubblico che adesso ce l'avete a mia, certamente non avrei potuto fare tutti quei film, non avrei potuto raggiungere tutti questi decenni di attività. Evidentemente c'è stato anche un interesse da parte di un pubblico più giovane che mi ha scoperto dopo il ritardo. Oggi vedo tanti ragazzi che hanno 20 anni, 18 anni, 25 anni, che adorano Acqua e Sapone, che adorano Borotal, lo fanno più, secondo me gli piacciono i film, però gli ho dato anche la possibilità di conoscere meglio uno spirito che era tipico degli anni Ottanta, e loro sono molto sensibili a quello che era una cultura, una cultura giovanile, una cultura, la società è durante quegli anni, e quei film rappresentano esattamente quel periodo. Oppure Compagni di scuola, che è al di fuori di ogni età, di ogni epoca, però rappresenta delle dinamiche che saranno sempre quelle, secondo me. Il grande freddo italiano, compagni. Sì, il grande freddo italiano in qualche maniera mi venne particolarmente bene, non lo so, forse è uno dei miei migliori film, se non il migliore, non lo so, questo poi sta al pubblico dire, il pubblico poi ha il suo film preferito, io non ho un film mio preferito, deve essere il pubblico a dire, io amo quello. Il pubblico mi segue, vedo che adesso per esempio, c'era un cinese in coma, che fu un film che faticò tanto quando uscì, non ci rimise, cioè ritornò in pari, cioè non guadagnò niente quel film, ritornò in pari. Però oggi, oggi è apprezzato, è apprezzato, è apprezzato molto. Quindi sai che cos'è? Che alla fine il miglior giudice, secondo me, è il tempo. Il tempo, certo. Il tempo ti può deglassare un'opera e te la può esaltare. Lo devi vedere a distanza di Agna, alla distanza. E alla distanza devo dire, rivedendo un po' tutta la mia opera, certamente non tutti sono sullo stesso livello, è ovvio, però ho fatto un buon lavoro. Rivedendo alla distanza alcuni film, mi sono reso conto che, per esempio, Gallo Cedrone è un film assolutamente moderno. L'abbiamo trattato un po' come un film sgangherato, come ancora un verdone che voleva fare le imitazioni, ancora i caratteri, ma allora invece quel film è proprio l'esplosione della megalomania, della mitomania, della bipolarità, della follia. E quel film sembra sgangherato, ma in realtà è un film, io lo sapevo che era un film invece intelligente. E oggi fortunatamente ho... Spaccò molto il... Si divise il pubblico, anche se il film andò molto bene. Mi dissero, eh, però... Oggi però rivedono e rivedono tutta quella mitomania, quella megalomania che è esplosa poi negli anni 90, negli anni 2000 in maniera incredibile. Ma oggi un politico come Gallo Cedrone lo potresti realmente trovare. Ma forse... Lo incontriamo proprio. Lo incontriamo e forse... Purtroppo lo vediamo. E forse mi supera anche in pazzia, capito? In megalomania, in mitomania, mi supera anche. La realtà a un certo punto mi ha sempre superato. Ma Gallo Cedrone penso che sia uno dei tuoi film più drammatici, perché racchiude il vuoto pneumatico degli anni 90 in maniera lapidaria. È veramente tragica. Io non lo posso dire, lo devi... Eh, no, lo dico io, lo dico io, l'ho già detto molto spesso o in passato in alcuni libri che abbiamo avuto modo di scrivere su di te, ma Gallo Cedrone è un film straordinario e molto drammatico. E poi è particolarmente adesso attuale, perché c'è la modernità di Dante, vista sul terrazzo. Quella... E io vorrei chiudere con una mia curiosità. Tu hai detto che sei nel libro, ricordo, La carezza della memoria di Bonpiani, adesso in tutte le librerie. Consiglio di comprarlo, perché è un libro straordinario. Se posso dirla ancora più toccante, della casa sopra i portici. Quello era un libro di memorie sulla famiglia, questo è un libro su di te, sul tuo nucleo emotivo di ricordi. E vorrei chiudere dicendo, tu hai detto che ti piaceva fotografare le nuvole e mi ha ricordato un po' la tua attitudine a fotografare i caratteri. E giusto per chiudere con un sorriso, una mia curiosità. Dove hai fotografato il ragazzo hippie di Grande, Grosso e Verdone? Cioè dove l'hai visto? Quelle osservazioni al ragazzo? Io facevo l'università, nell'epoca peggiore, cioè durante le tensioni sociali, di scontri tra il movimento studentesco da una parte e quelli di estrema destra dall'altra. Da legge arrivavano quelli del movimento sociale o gruppi di estrema destra. A lettere e filosofia c'era tutta la sinistra. Io facevo lettere, mi sono lavorato in lettere moderne e c'era sempre ogni giorno nell'aula sesta un'assemblea dove tutti prendevano la parola. Però tutti parlavano in questo modo qua, hai capito? Cioè dobbiamo imporci il 18 politico, cazzo, è un'esigenza, è anche un modo di contestazione, hai capito? Questi che parlavano così. Poi quando fece un film come secondo aiuto regista nel 1975 con Franco Rossetti a Siena, il titolo era Quel movimento che mi piace tanto. Insomma si comincia anche con quei film là. Mi ricordo che c'era il fonico che era uno, si capiva che era un extra parlamentare che gli piaceva il cinema e mi disse un giorno con l'asta, c'era l'asta col microfono, mi disse prima di cominciare, prima che desse del ciac, Carlo, ma l'hai sentito l'ultimo dei Pink Floyd? che ho detto no perché è uscito, wish you were here, compra, senti proprio l'ascito, sai? Ecco, questo modo di parlare secondo me era tipico di un di un ragazzo che era di quella di quella formazione politica, di quella cultura e in qualche modo secondo me e lo sentivo sempre più spesso e quindi questo il cioè, cioè, cioè non mi sta bene. Cioè mi è entrato dentro e piano piano ho ho catturato quel DNA, quell'anima ed ecco quindi che è uscito fuori il bambino di Dio, il fricchettone nel film un sacco bello con Mario Brega che messo a contrasto con Mario Brega fa fantastico guarda il genio dicono che è velocità di esecuzione e penso che non ci sia esempio più lampante di questo, guarda io sono contento di aver fatto con te ci stavo riflettendo adesso questa chiacchierata ti ringrazio ancora oggi 27 marzo a parte che è la giornata mondiale del teatro oggi avrebbero dovuto riaprire cinema e teatri lasciamo stare soprassediamo però che sia di buon augurio io ti ringrazio io ti ringrazio ancora di aver cito io vi ringrazio voi grazie a te ricordo che c'è in libreria la carezza della memoria a breve uscirà cioè non so a breve comunque su Amazon Prime ti vedremo con Vita da Carlo già ci sono i primi spot e lo dico in maniera ben augurante a breve ti vedremo al cinema con il tuo prossimo film con le dita sicuramente accadrà la data ad stabilire ma sicuramente sempre più vicino io dico sempre che è sempre più vicino dell'anno scorso la data quindi la data di uscita del tuo film Carlo grazie ancora di cuore grazie a voi grazie a voi a presto grazie a te ciao grazie buona giornata ciao